Musica In questa edizione delle DNews, la DIA di Catania ha confiscato beni per 2 milioni di euro un esponente del clan Santa Paola. Crocetta è sempre più fermo sulle sue posizioni, prima le riforme e poi possono sfiduciarmi, dice, ma io non mi dimetto, ma già si pensa al dopo Crocetta con l'ipotesi farone tra le più papabili. La riforma delle province che non arriva è la difficoltà dei lavoratori degli enti provinciali, un'analisi condotta con i sindacalisti e la città etnea. Viaggiare in Sicilia diventa sempre più difficoltoso, l'odissea del viaggio Palermo-Catania in treno raccontata da un viaggiatore. Dal 19 luglio, decollare di gusto è di Norma. Territorio, cibo e cultura, il luogo di partenza. Norma, that's Sicilia, l'Officina delle Eccellenze. Aeroporto Fontana Rossa Catania, ex terminal arrivi. A Belpasso, la tradizione si fa spettacolo. L'arte si fa devozione, la storia si fa racconto, festa del patrocinio. Belpasso, 1, 2, 6 agosto 2015. I carri di Santa Lucia. Job Crescent, le migliori soluzioni per pianificare le vostre campagne pubblicitarie su impianti poster. Realizza la grafica e la stampa. La Job Crescent dispone di impianti LED, il nuovo mezzo di comunicazione dinamico. Job Crescent, lavoriamo per definire il vostro futuro. Entra da Mondo Ragazzi e troverai tante idee per rendere felice il tuo bambino. Mondo Ragazzi è il mondo dei piccoli, abbigliamento e calzature da 0 a 16 anni con i marchi più prestigiosi. Da Mondo Ragazzi corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanze dei giochi. Mondo Ragazzi, amici d'infanzia. A Catania in via Pola 19, ad Agrigento in via Tenea 22, a Sciacca in via Licata 95 e a Giarra in Corsitalia 168. Beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro sono stati confiscati nei confronti di Roberto Vacante, più volte condannato in mia definitiva per il reato di associazione mafiosa perché ritenuto un elemento di spicco è il clan Santa Paola al quale è legato dai vincoli di parentela. La confisca, eseguita dalla Direzione Investigativa Antimafia di Catania, nel capoluogo e in provincia, vede tre beni sottoposti a sequestro e un'impresa di gestione di impianti sportivi, tra i quali diversi campi di calcio in pieno centro, due ville tra Catania e tre messiere Teneo e conti correnti bancari. Viene colpito il patrimonio di un soggetto che ha militato e si ritiene stato veramente operativo nella cosca Santa Paola. Ma è importante per il valore dei beni confiscati perché conferma che lo Stato è presente, che se è pur vero, purtroppo, che la malavita si arricchisce dei traffici illeciti di ogni tipo, e spesso queste malavitose conducono anche una bella vita, però lo Stato è presente, questi beni, che sono frutto di attività illecite, vengono poi restituiti alla collettività con le misure di prevenzione. Vacante è sposato con Irene Grazia Santa Paola, figlia di Salvatore Santa Paola, fratello di Benedetto Santa Paola, rappresentante provinciale dell'organizzazione Cosa Nostra. Vacante è stato sottoposto alla misura di prevenzione e alla sorveglianza speciale di Polizia di Stato per la durata di due anni e sei mesi, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Le indagini di natura economico-finanziaria e patrimoniale delegate alla locale di Die ed espletate al centro operativo Die di Catania, diretto al primo dirigente alla Polizia di Stato, il dottore Renato Pambino, hanno permesso di individuare una serie di beni che, benché formalmente intestate sui prossimi congiunti, sono stati ritenuti effettivamente riconducibili alla titolarità del Vacante, attraverso l'intestazione degli stessi alla propria moglie, Renne Santa Paola, e al fratello Giancarlo Vacante. Indagini sicuramente non facili, come ha sottolineato lo stesso Pambino. Queste indagini intanto iniziano riguardando tutte le attività che sono state fatte nel momento in cui si portano in cella numerosi affiliati di Cosa Nostra. Si svolgono numerosi servizi sul territorio, si verificano soprattutto i riscontri a quelle attività anche intercettative, di intercettazioni ambientali, telefoniche, che non sono utili ai fini processuali per una condanna, ma che sicuramente possono essere importanti, come è stato evidenziato in conferenza stampa, per il sequestro dei beni e la confisca degli stessi. Inoltre è stata accertata la capacità reddituale del Vacante del suo nucleo familiare nell'arco temporale compreso per il 1988 e il 2013. Il coesito ha evidenziato forti profili sperequativi tra i proventi dichiarati e il patrimonio posseduto, da cui la presunzione accolta dal Tribunale di un'illecita acquisizione patrimoniale derivante alle attività delittuose connesse all'inserimento del Vacante nell'ambito del clan Santa Paola. Roberto Vacante ha aderito al clan mafioso Santa Paola agli inizi e agli anni 90, quando, nell'ambito dell'operazione di polizia denominata Vega, venne tratto in arresto unitamente ad altri 33 coindagati, tutti appartenenti al clan Santa Paola, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP e dal Tribunale di Catania, poiché è ritenuto responsabile di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alla Commissione di Essorsioni, Rapine, Usure e Omicidi. Lo stesso è stato nuovamente tratto in arresto il 7 dicembre del 2000 nell'ambito dell'operazione Zefri unitamente ad altri 8 soggetti, tutti ritenuti responsabili di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alla Commissione di Essorsioni al Gioco d'Azzardo. Roberto Vacante è stato inoltre tratto in arresto il 9 ottobre 2007 dell'ambito dell'operazione Arcangelo, condotta al centro operativo dell'ADN esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP e dal Tribunale di Catania, in quanto responsabile di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alla Commissione di traffico di stupefacenti ed essorsioni. La sua intra in età dall'organizzazione mafiosa Santa Paola-Orcolano è stata inoltre confermata alle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, in particolare il Vacante annovera due condanne con sentenze passate in non giudicato per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Grazie al forte senso civico di un non cittadino, ieri gli agenti delle volanti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto in flagranza di reato di rapine e sequestro di persona i pregiudicati Anthony Carmelo Spampinato, classe 1994, e Domenico Comis, classe 1995. Infatti proprio ieri mattina, intorno alle 9, un anonimo cittadino ha segnalato al centro 13 che represse la rotatoria di Montepo in direzione di via Palermo. Un'autotrasportatore era stato appena sequestrato a bordo del proprio furgone ad opere di quattro giovani che lo avevano affiancato a bordo di uno scooter. Due sono saliti sul mezzo e ne hanno assunto il controllo. Immediatamente la sala operativa ha fatto convergere sul posto diverse pattuglie che si sono poste alla ricerca del furgone rapinato. Una vera manovra a tenaia, quella realizzata dai poliziotti, i quali, imboccando la via Palermo, le due estremi del tratto che va da Piazza Marconi alla medesima rotatoria nel cui presto è stato bloccato il furgone, hanno precluso ogni via di scampo ai malfattori. E forse nemmeno gli agenti speravano un esito così positivo. Grazie alla prontezza del dispositivo messo in atto alla sala operativa e alla questura che ha coordinato l'azione, e grazie alla fulmine e reazione dei poliziotti su strada, il furgone rapinato con a bordo l'autista sequestrato è stato subito intercettato, ma a quel punto la situazione si è fatta delicata. Il veicolo scendeva per via Palermo a forte velocità, i rapinatori sequestratori avevano preso posto nell'abitacolo e il sequestrato non era visibile. Abilmente, sbarandogli la strada, le due volanti hanno bloccato il furgone mentre una terza pattuglia è giunta da dietro. Armi in pugno e poliziotti hanno circondato i rapinatori, riuscendo a farli scendere dal veicolo. In posizione di sicurezza sono stati ammanettati e resi inoffensivi. L'autotrasportatore rapito finalmente ha potuto fare a capolino dall'interno del furgone dove era stato rinchiuso dai suoi sequestratori. arrestatori, visibilmente scosto e impaurito per la brutta avventura, ha raccontato agli agenti essere stato selvaggiamente picchiato dai quattro malviventi. Due sono riusciti a far perdere le proprie tracce e costretto ad annicchiarsi nell'esiguo spazio dietro ai sedili. Lo scopo dei rapinatori era quello di approfarsi agli alimenti e delle bevande trasportati, atteso che la vittima si occupa di rifornire le macchine dispensatrici installate presso scuole e uffici pubblici. I due arrestati, entrambi abitanti alla periferia sud-ovest catanese, sono stati accompagnati in questura dove, su disposizione dell'autorità giudiziaria di turno, i due hanno preso la strada del carcere di Piazza Lanza dove si trovano rinchiusi. Ancora una volta, una telefonata d'automoda alla polizia di Stato Isal va a una persona delle grinfidi che non si è fatto scrupolo di mettere a repentaglio la vita di un uomo per un misero bottino. Non servirò mai la mia testa in un vassoio d'argento al Partito Democratico, se me ne devo andare lo farò per motivi politici e non per le false intercettazioni, ad affermarlo il governatore siciliano Rosario Crocetta che non vuole arretrare di un centimetro rispetto alla vicenda che lo vede coinvolto. La parola di missione, infatti, non sfiora minimamente i suoi pensieri, nonostante il pressing che arriva in queste ultime ore dei vertici del suo partito, il PD che da tempo lo vuole sfrattare da Palazzo Orleans, pure non essendo il governatore indagato, mentre si tiene tutti i sottosegretari sotto inchiesta. Prima faccio le riforme, ha detto Crocetta, poi do la mia disponibilità all'Assemblea siciliana per decidere se porre fine alla legislatura. Insomma, Crocetta ciò che chiede è di avere un paio di mesi per portare avanti le riforme più urgenti, innanzitutto quella sulla povertà, ma anche quella sull'acqua pubblica e sulle province, e poi solo dopo si potrà decidere del suo destino. Ma tutto il PD ormai contro Crocetta, da Orfina alla Seracchiani, passando per Guerini, assordante il silenzio invece da parte di Matteo Renzi, che tuttavia dovrebbe incontrare il segretario del PD siciliano Fausto Raciti per uscire dall'impasse. E il PD già pensa a rimpiazzare lo stesso Crocetta in caso di elezioni anticipate. Il nome più gettonato è quello di Davide Farone, che in queste ultime 24 ore sembra scomparso dalla scena del crimine. L'operazione Farone, dicono i beni informati, è già stata avviata da tempo con la stretta regia romana. Una regia firma PD UDC nuovo centrodestra che in Sicilia potrebbe sparigliare le carte sia al centrodestra sia ai grillini. A capo dell'operazione ci sarebbero il Silente Renzi, l'oramai compagno di governo Angelino Alfano, e Gian Piero D'Elia. Dall'altro lato c'è un potenziale candidato per il centrodestra che è Nello Musumeci e che stando a quanto detto non dovrebbe avere il sostegno appunto e il nuovo centrodestra. L'altro schieramento, il centrosinistra, è già al lavoro, a parte i grillini pronti a prendersi la scena. Cosa ne sarà delle province siciliane e dei dipendenti che in esse vi operano costretti a vivere nell'incertezza? L'abbiamo chiesto a CGL Cisle Will in una serie di interviste che vi proponiamo da oggi a venerdì per ascoltare le diverse opinioni. Cominciamo oggi con Alfio Mannino, segretario confederale della CGL. È sempre più in milico il futuro dei lavoratori delle province a causa di una politica lenta che non fa le riforme che annuncia e che proprio oggi quando si parla di dimissioni e il Presidente Crocetto di una sfiducia nei suoi confronti serve ancora di più questa riforma. Assolutamente sì, anche perché noi abbiamo intanto azzerato le cariche elettive della provincia, si era pensato di costruire una riforma in cui dovevano essere chiuse le province per cercare di spostare le competenze, quindi anche le risorse umane verso altri enti, penso ai comuni o verso la regione e tuttavia queste riforme non sono state fatte e tra l'altro non si capisce neanche che modello noi vogliamo avere. Noi per esempio abbiamo sempre detto che bisognava ricalcare il modello del RIE e quindi andare sempre di più verso l'istituzione intanto delle aree metropolitane e tutte quelle realtà dove non esistono le aree metropolitane cercare di fare dei consorsi che quantomeno potessero coincidere con le realtà provinciali. A Catania noi pensiamo che vada costruita la città metropolitana che in qualche modo ricomprenda il perimetro della provincia catanese e cercare di mettere in relazione le competenze che oggi hanno gli enti locali con quelli della provincia spostando le risorse umane spostando le competenze perché la cosa grave è che qui non soltanto siamo di fronte a un'incertezza assoluta da parte dei lavoratori ma la cosa grave è che ci sono alcune competenze che non si sa più chi le deve svolgere penso per esempio a chi deve gestire le strade provinciali le strade di penetrazione agricola pensiamo all'edilizia scolastica di competenza provinciale cioè qui non c'è un problema solo di danni ai lavoratori che vivono in una condizione di incertezza ma servizi basici a partire appunto dalla gestione delle scuole che oggi sono rimasti completamente in aria sempre più critica la situazione all'ASP perché manca un direttore e quindi difficoltà ci sono per i pazienti quasi un milione di pazienti che utilizza i servizi erogati all'azienda sanitaria provinciale ma anche per i lavoratori soprattutto i lavoratori precari che non avendo un punto di riferimento non sanno con chi relazionarsi non sanno quello che è il loro futuro da qui anche un incontro avete avuto voi ieri a Palermo proprio per parlare di questa vicenda delicata è il sindacato a fianco dei lavoratori ma vuole risposta anche dalla regione Noi lo diciamo da molto tempo che ci vuole un direttore generale responsabile non si ragiona non vi è una sanità veramente limita per come dovrebbe dare all'utenza un servizio saggio e sano noi come Willi diamo lo stato di agitazione contro la regione siciliana perché è un disastro completo questo governo regionale Un disastro completo che poi si ripercuote sui lavoratori e cittadini Assolutamente con questi tagli che toglie soldi ai lavoratori guarda qua i tagli sono diventati leggi nazionali sulla finanziaria e questo la dice lunga noi continuiamo a fare la nostra battaglia e sicuramente porteremo un vantaggio perché la politica non funziona ma il sindacato sì Cosa può succedere a questi precari non essendoci un direttore a cui fare riferimento che stanno in agonia senza posto di lavoro non c'è prospettiva e qui bisogna rimborcarci le maniche noi Ciceli e Ciceli per dare un senso di responsabilità verso questi lavoratori che non hanno prospettiva per l'avvenire Parliamo sempre di una sanità che non va bene ogni tanto però qualche buona notizia cioè parliamo del Policlinico del Vittorio Emanuele della possibile apertura del pronto soccorso del Policlinico e anche del fatto che ospedalieri universitari non sono tanto più in conflitto come lo erano fino a qualche mese fa Sicuramente con questa terna governata da Paolo Cantaro le cose stanno andando meglio anche se la sanità ha bisogno veramente quella forza necessaria per portare avanti tutti i progetti Noi guardiamo che l'equilibrio fra Vittorio Emanuele e Policlinico vi è in questo momento una saggezza in cui noi siamo fieri di questa amministrazione sicuramente sappiamo che a dicembre aprirà il pronto soccorso del Policlinico che così completa l'opera sul Policlinico Per Vittorio Emanuele vogliamo fin quando rimane aperto quello che è rimasto che funziona sicuramente continua a funzionare il pronto soccorso e tutte le aree poloembolatori per dare un servizio sicuramente in una città che soffre e una città che ha bisogno quell'area dell'ospedale Vittorio che abbraccia tutta la parte sud di Catania Viaggiare in Sicilia diventa sempre più difficile non lo si può fare con la macchina considerando il crollo continuo di viadotti possiamo citare quello sulla Catania a Palermo si potrebbe viaggiare in treno qualora i servizi ferroviari funzionassero ieri l'ennesima dimostrazione che c'è un servizio anche da questo punto di vista carente in Sicilia perché voi che viaggiavate nel treno da Palermo a Catania a causa di un incendio siete stati costretti a scendere non è il problema l'incendio quanto l'organizzazione perché siete stati fatti scendere a Caltanissette e lì non c'era neanche un autobus ad aspettarvi 90 passeggeri dovevano tornare ad Enne e a Catania che si sono ritrovati in mezzo al vuoto in una regione in cui nessuno è responsabile dei danni causati al popolo siciliano alla terra della Sicilia si vive l'ennesimo dramma della viabilità ieri la viabilità siciliana è stata messa a dura prova sia sul tratto autostradale di Polizia Generosa in cui il mattinato un camion ha preso fuoco e sia nel tratto ferroviario da Palermo a Catania ieri il treno delle 7.36 delle 19.36 ha avuto forti ritardi ed è stato costretto a una sospensione di corsa dopo 15 minuti dalla sua partenza per una verifica da parte del macchinista dell'ultimo vagone in cui ero ospita si sentiva un forte odore di freni lo stesso odore del surriscaldamento dei freni della macchina comunque dopo la ripartenza il capo treno ci ha avvisati che il treno avrebbe subito da prima una sosta ad Enna e dopo circa 20 minuti disse che lo stesso treno avrebbe terminato la corsa a Caltanissetta e Sirbi Caltanissetta e Sirbi è una stazione che è famosissima per il comfort ossia nessuno ma l'unica cosa che ha accolto i passeggeri era un forte odore di escrementi di animali e là il pensiero positivo di una efficace organizzazione della macchina delle ferrovie dello Stato si è messa sicuramente a dura prova il ripensamento di tutti i passeggeri ricordo che c'erano bambini donne in gravidanza lavoratori che svegli dalla mattina alle 4 che sono andati a prestare la propria prestazione lavorativa con estrema dignità la stessa dignità la ferrovia dello Stato l'ha calpestata per l'ennesima volta stiamo vivendo in una Sicilia in cui tutti in una terra in cui tutti sono abituati a calpestare in cui tutti non hanno responsabilità ancora non si sa la vicenda del viadotto come andrà a finire perché il responsabile del danno ancora non si sa se pagherà o non pagherà ma di fatto c'è che l'unico che ha pagato e pagherà per anni è il popolo siciliano costretto per l'ennesima volta a essere calpestato da chi non sa organizzare neanche un servizio di assistenza ricordo che neanche una bottiglietta d'acqua è stata fornita ai 90 passeggeri che sono stati costretti ad aspettare nel piazzale antistante alla stazione per ben un'ora i pullman che dovevano venire e dovevano essere programmati già dalla partenza di Palermo perché già dalla partenza di Palermo il macchinista aveva annunciato che la corsa del treno si sarebbe fermata ad Enna quindi qualcuno ha delle colpe organizzative si dovrebbe sapere solo chi torna anche quest'anno musica contro la mafia siamo alla settima edizione di un'iniziativa voluta da donne in azione che ogni anno si spende a favore appunto della lotta alla mafia per ricordare Paolo Borsellino e comunque tutte le vittime della mafia location nuova quest'anno ci si ritroverà sabato sera a San Gregorio sì per quest'anno abbiamo una nuova location al comune di San Gregorio che ci ha ospitato per la settima edizione il tema della lotta la mafia è un tema che a noi donne in azione sta molto a cuore infatti ogni anno riproponiamo questo evento e per quest'anno saranno ospiti il magistrato Marisa Scavo e siamo molto contenti anche di avere Fabrizio Famà che ci racconterà un po' del padre Serafino Famà come ogni anno la mafia è un elemento importante e portante dell'evento ma non solo c'è tanta musica ci sono tanti artisti del territorio che si sibiranno molti ragazzi che ogni anno aderiscono sempre molto volentieri a questa iniziativa e ci sarà anche l'ospite internazionale Ruli Rodriguez L'ingresso alla serata è libero quindi aspettiamo tante persone speriamo che siano le benvenute e che partecipino soprattutto perché la nostra terra viene purtroppo sempre tristemente affiancata alla parte negativa della mafia e si tende a dimenticare tutte le altre iniziative invece che vogliono evidenziare la legalità della Sicilia Una manifestazione organizzata da donne e giovani a cui partecipano soprattutto tanti giovani questo a sottolineare come nei giovani c'è la coscienza di quello che è il fenomeno della mafia e che si può combattere se si resta uniti Sì, ogni anno comunque c'è una nuova abbiamo sempre tanta nuova adesione di persone sempre più giovani ragazzi 95-96 che vengono a suonare con noi tanti artisti quest'anno hanno preso parte daranno un loro contributo all'evento con dei video non potendo essere con noi come Leo Gullotta Giuseppe Castiglia Davide Chio Cesare Bocci l'attore di Montalbano e tanti altri ancora quindi c'è una grande risposta ogni anno siamo sempre di più siamo sempre di più le ragazze in associazione e siamo sempre di più ad avere l'iso sotto il palco ogni anno Favorire la corretta convivenza fra uomo e animale tutelare la salute pubblica e l'ambiente questo è lo scopo del protocollo tra comune di Catania ed Enpa che promuove sostiene incentive iniziative e interventi rivolte alla prevenzione e alla gestione del fenomeno del randaggismo l'amministrazione intende infatti effettuare un'eccessiva campagna e sensibilizzazione rispetto alle norme di comportamento dei proprietari degli animali giungendo nei casi di violazione di norme di legge all'assanzionamento e alle trasgressioni rilevate le sanzioni verranno contestate alle guardie zoofili dell'Enpa ente con cui il comune di Catania ha sottoscritto appunto la convenzione che prevede anche la collaborazione per promuovere le adozioni di animali del comune in questi mesi tra l'altro grazie alla collaborazione dell'Enpa molti cani sono stati microcippati alcuni sono stati sterilizzati e adesso si penserà a creare nuove aree di sgambettamento proprio per i cani a creare nuove 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 Grazie per la visione!